L'allenatore a volte fa delle valutazioni, a volte le fa del momento, della forma, poi in base al sostituto, in base a certe cose che vuole andare a cercare. Maggio per me è un giocatore, uno dei migliori esterni della Serie A, non a caso è nazionale, è un momento particolare, lo deve superare anche giocando, va supportato, ci ho parlato tantissimo, era un po' amareggiato anche da troppe critiche, secondo me anche troppo affrittate e ingenerose, in base a quello che poi ha dato per la causa nel tempo Maggio. Io l'ho sostenuto, gli ho detto di fregarsene di tutti, di pensare solo all'allenarsi bene e di fare quello che ci diciamo noi. Il momento difficile è passato e sono contento, ma per me rientra nel mio lavoro fare questo, insomma non ci sono problemi. Maggio è un giocatore comunque importantissimo per noi, non potevamo perderlo.